Gentile Michivendola, chiedo a lei e al suo partito una nuova legge in materia di tirocini, affinché sancisca il diritto alla retribuzione ad ogni stegista italiano, senza distinzione di età e di scolarità, affinché ogni giovane abbia uno stipendio che garantisca a lui un'esistenza libera, dignitosa e autonoma dal proprio contesto familiare. Grazie, cordiali saluti, Marco Patrono, Generazione P.